L'unità di crisi regionale ha diffuso il consueto aggiornamento pandemico da cui emerge che sono 108 i nuovi positivi in regione Campania. Il dato emerge dall'analisi di 5.872 tamponi con un tasso di positività all'1.84%. Invece sono stati appurati 13 nuovi tamponi positivi in provincia di Salerno. Lo hanno fatto sapere i vertici dell'unità di crisi della Campania a fronte di 289 tamponi processati. Il tasso di positività si attesta al 4.5%. Si registra una ripresa di contagi tra i giovanissimi nel Cilento. Infatti alcuni locali restano chiusi per precauzione. Sono quattro al momento le attività a Casalvelino che hanno deciso di sospendere la prestazione. Sono stati i rispettivi titolari dell'attività che lo hanno reso noto dopo l'incremento dei casi positivi sul territorio. A Casalvelino sono sette le persone in isolamento e due i contagi registrati. A Domignano invece i casi Covid sono nove, con altri tamponi da confermare. Quattro scafati. Anche a Salerno, Albanella, Ceraso e Positano si registrano due positivi.